Questo pezzo racconta di quando io andavo con mio papà nei bar di Sant'Olcese e sentivo tutte le persone mugugnare, incazzarsi fra di loro. Era una specie di gramlo difficilissimo. Cerco di farlo capire anche chi è da fuori. Delle parole indistinte, tipo bellini defigette che da tre anni non ti la mi manco, sono subito lì cadavano in giro a tutti i quarti, che sarebbe cavolo di ragazzine che andavano in giro come se non fosse la loro. Bellino che manco di fare una poesia con un pulimento. Abbiamo fatto presto, costava 1.000 franchi, costava un euro. Si parla anche di economia, ovviamente, nei bar. Bellini dei arabi, c'è anche un'apertura verso le altre culture. Vengono anche a Milano a fare la moschea, ma non potremmo fare l'Islam Abad e fare una gesa. Poi cimitano arriva e mandano via quelle lì. Mi ricordo, forse lei ha il film di una volta, mi ricordo Anfrey Bogart. Come si chiama con un film che mi ricordo sempre? Il lungo fiume dell'Indomani. Anfrey Bogart, inciupponte, con la bionda, tutti i capelli che tu ne è, filmava Mercedes, sigaretta da bagaccia. Poi arriva Anfrey Bogart, si leva il cappello e ci dice, ci dice, non ci vedremo mai più, mai più. Non c'era lì, non c'era niente, non c'era niente. Mandovi un po' di scamarci in suo punto a parlare con la bionda. Poi prendi un po' di bungee jumping senza l'elastico. Bellini dei playstation, gameboy, instagram, bellini dei coscii e ti svegli chi c'è? Non sono contenti di niente. A noi altri ci portavano a vedere mangiare il gelato. Giocai, c'era la terra. Vieni a una bella guerra, abiti i luci. Mister Bellinata de Maria de Filippi, amici, non posso ciamare. Vieni lì. L'altra volta da amici, Giocai, anche bello, prestante, muscoloso, che l'ha messo a sbarretta, fa 5, 6, 7, 8... Cianzeiva! Disperato, perché è nato un bucchio da sua stirpe. O gadito! O gadito! Ho visto che te non sei artistico, ma vieni un po' a portare una cuffia al deserto come la settua domattina. Lì è grande gente, grande gente del fiumento. Ma se c'è un centro avanti lì da solo. Ma tu che devi dire qualcosa è un bello momento. Anche a Tostubelinde c'è un centro avanti finlandese che hanno pagato 25 miliardi, di slengua musa, come se c'è, ma sta tutto davanti a porta a fare l'estruso. Ma ti c'è, ma non 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 c'è. Bene, bravo, scemo! Non ti hai visto che c'è la donna lì davanti che fa una primea. Ma allora sei scemo, ma sei scemo così. Tu hai fatto un corso propedeutico, penso che c'è un scemo del globo terracchio. Non mi fai già stermare, non mi fai già stermare come l'altra volta che io ho in scella l'automus. Ah, mi vengono scello pochi. Tutti i cusci di gente sul set sbarrato. Tutti i cusci, eh. A un bello momento conducente ti hanno frenato così. Trum, caso per darci più su un bestemmiu cusci, arriva una scegnua tutta in pelissacqua per vista del fuoco. Mi dice, ma le sembra il caso di bestemmiare? Ho detto, signora, secondo lei c'è avuto il tempo di stabilire se era il caso o no? Non me l'ho più o meno lì, eccetera. E questo è l'omaggio al Mugusa. Grande Mauro. Grazie a voi, grazie, grazie.